Una bella emozione, una bella emozione perché la manifestazione è importante. Il tempo per prepararla ne ho avuto poco e per calarmi dentro non ne ho avuto tantissimo, però c'è un grande impegno e una voglia anche di ritornare a teatro, di rifare teatro, di rivedere le compagnie e quindi questa è una cosa molto positiva e soprattutto di ritornare, tra virgolette, a rivivere dopo due anni di fila di pandemia nei quali, bisogna sottolinearlo, il GAD è andato in scena ugualmente, quindi sono dei segnali molto importanti di resilienza e di resistenza che abbiamo avuto e che ci proponiamo con questo di ripartire ancora più in forza, più forti di prima. Sono cicli della storia, magari per motivi diversi, siamo riusciti a centrare i tempi previsti per i lavori in Sala della Repubblica del Teatro Rossini, tra l'altro promessi proprio a un avvio di stagione del GAD di qualche anno fa, necessari non solo alla Sala della Repubblica ma a tutto il teatro per avere un vero e proprio ridotto che sarà importante anche per le prossime edizioni e questo comporta qualche sacrificio tra cui il tornare allo sperimentale che però ha contribuito anche questo in determinate edizioni a fare la storia del festival, quindi insomma è anche il teatro, sapersi adattare, ritornare, ricreare storie, quindi grazie anzi a tutta la struttura del festival e anche le compagnie che parteciperanno anche per questo spirito di adattamento ma siamo convinti che questa cosa, assieme anche all'edizione in formula festival, insomma raggruppata in pochi giorni, non diluita in molte settimane, potrà contribuire a creare proprio un clima da festival. Il festival aprirà con un appuntamento speciale a cent'anni dalla scomparsa di Ercole Luigi Morselli, uno straordinario personaggio del nostro territorio, uomo di lettere, uomo di teatro, di cui ricorrono appunto quest'anno i cent'anni della scomparsa, abbiamo deciso di dedicare a lui l'evento inaugurale del festival, un convegno il 20 ottobre alle ore 17 al teatro sperimentale. Nell'occasione presenteremo anche un volume a cura di Lucia Ferrati, fatto assieme all'ente Olivieri, sempre un volume fotografico dedicato sempre a Ercole Luigi Morselli. Degli spettacoli presenti al festival abbiamo avuto modo già di parlare, quindi anche quest'anno otto spettacoli in concorso e due appuntamenti fuori concorso. Ritorna a Bettrina Pesaro, una giornata, una serata particolare dedicata a autori pesaresi, con due monologhi rappresentati all'interno della stessa serata e un altro evento molto importante, torna a Pesaro Roberto Mercadini. Quest'anno uno spettacolo dedicato a Dante, i 700 anni della scomparsa di Dante, quindi celebriamo anche questa importante ricorrenza con Roberto Mercadini che due anni fa venne qua a Pesaro con uno spettacolo dedicato ai migranti e ritorna sulle ali di un successo straordinario che incontrò a Pesaro ma che poi in realtà è proseguito e adesso direi che è una vera star assoluta del teatro, siamo contenti di averlo tenuto a battesimo quando non era così famoso e ora lo è veramente a livello nazionale così come lo è il nostro festival. L'organizzazione ha pensato di aggiungere un ricordo di Eva Franchi che è stato il quarto direttore artistico del nostro festival ed ha lasciato una traccia importante a Pesaro con tante iniziative e non solo a Pesaro perché in giro per l'Italia e per il mondo ha difeso il teatro amatoriale e ha parlato sempre in modo molto efficace del festival di Pesaro, quindi ambasciatrice del Festival Nazionale d'Arte Drammatica, personaggio importante del teatro italiano perché ha scritto una trentina di opere teatrali, molte delle quali pubblicate, molte delle quali rappresentate anche all'estero e quindi oggi sarà l'occasione per ricordarla agli amici che l'hanno conosciuta o per dire qualcosa a coloro che non l'hanno ancora conosciuta.